...delle grani dello sport che consegnerà il prossimo premio, arriviamo così a maggio. A maggio questa ragazza di Sorvolo non si è accontentata di quanto aveva già vinto in carriera ma ha ritito il suo curriculum sportivo che vanta ben 8 titoli assoluti femminili conquistando anche la nona timfonia. Arricione infatti ha confermato i pronostici vincendo gli ai italiani assoluti di squash ed entrando così anche lei nella storia di questa disciplina sportiva. Lei è Manuela Manetta. Purtroppo non la possiamo far vedere, però la foto che c'era sulla gazzetta quando c'era il servizio ti vedeva che festeggiavi questa coppa, ormai c'era abituata. Sì, già sono 9 di tutti gli italiani, quindi tutti gli anni è una grande festa spero di poter vincere ancora qualcuno prima di ritirarmi quindi è un piacere per me ricevere questo premio e ringrazio tutti quelli che hanno deciso di premiarmi sono contentissima.